Il 17 dicembre Grillo rilascia questa intervista. Sono un movimento igienico sanitario, vogliono un po' di pulizia, capisci? Non è sbagliato. Vogliono rifare la società, vogliono igienizzarla. Grillo da lì a poco avrebbe annullato tutte le sue date di marzo, organizzate e già vendute su Ticket One, 20 date. Con la scusa che lui russava male di notte e sul suo blog, carica la registrazione di Luca Russa. Un mese prima dello scoppio della pandemia Di Maio viene preso in giro dall'intera Italia per aver fatto un lapsus dicendo coronavirus. Ogni paese sta adottando, ogni Stato membro sta adottando delle misure rispetto alla vicenda e all'emergenza del coronavirus. Perché Grillo a dicembre aveva la mascherina e parlava di società da rifare e da igienizzare? E perché ha annullato due mesi prima le date del suo tour? E come mai Di Maio parlava già di Virus come se da mesi fosse in contatto con l'estero e sentisse quella parola? Sapevano già tutto? Difondete il video. Non scuovano, eh? Non schuovano, non schuovano, eh? Grazie a tutti.